Opere come esperienza sensoriale. È l'arte come la intende Yoko Ono, l'artista concettuale, 83enne, moglie di John Lennon. 80 sue opere sono ora esposte in una mostra a Santiago del Cile, in cui i visitatori sono invitati a interagire e partecipare attivamente. Un modo di rompere i confini tra pubblico e artista. Penso che Yoko Ono sia una delle pioniere nel campo dell'arte concettuale, più conosciuta come persona e meno conosciuta come artista, dice la coordinatrice della mostra, Laura Pariglia. La cosa importante nella sua arte, specialmente negli anni Sessanta, è che separa l'arte dall'oggetto, che era venerato molto durante quel periodo, perché la cosa importante non è l'oggetto, ma l'esperienza che si può avere con esso. Dall'aggiungere un timbro, a ricomporre i cocci e a scrivere un post-it, l'arte di Yoko Ono cerca di parlare a chi guarda per costruire un dialogo che rompa ogni barriera.